Ma che le tracce, bisogna proprio fermarlo di persona, andare in Spagna, bloccarlo, se no è una tragedia, questo scopre l'America. Che ti hanno fatto ma gli americani? Ma dimmi, tu non è la cosa in capo. Ma come perché c'è l'americano? Gli indiani, qui non si vede più un indiano pagare l'oro da nessuna parte del mondo. Io ho girato, non c'è indiani da nessuna parte. L'hanno ammazzati tutti, hanno fatto pinta di essere arrivati prima gli americani. E voi che ci fate qui? Gli indiani dicono, noi ci siamo sempre stati, sempre stati, tra secchi tutti gli indiani che avevano scoperto l'America, altro che il Colombo. Gli indiani stavano già lì, se non ci trovava nessuno l'abbia scoperto lui, ma c'erano già gli indiani. No Mario, è come se io ora vado in Puglia e dico, la Puglia, o pugliesi sono duemila anni, stanno lì, lo sapranno c'è la Puglia. Invece no, l'indiano è stato sterminato, non c'è un americano buono in nessuna parte del mondo. Non c'è un americano né nella cultura, né nello spettacolo, né lo sport, né la... Non è lo sport, nasce da Sir Cassius Clay. Ma sei daltonico, Sir Cassius Clay, è necro, che nasce i negri in America. Quello è africano, è stato esportato in America, fanno schiavi, ecco. Mario, bisogna fermare Colombo, vieni.